A volte il negozio di Castelvetro si presenta così, con l'importazione dei tappeti. Questa è l'ultima importazione, appena arrivata. Sono tre partite diverse di tappeti e sono tre collezioni diverse. Prima di aprirle ho piacere di farvi vedere come arrivano. Queste addirittura sono ancora nell'aiuta, con la scritta NOX, niente uncini, perché i tappeti si rompono se vengono presi con gli uncini. Questa è una prima collezione, lì c'è la seconda e qui c'è una terza. Questa appena sdoganati. Il negozio si presenta un po' in disordio, adesso dovremo avere un po' da lavorare per mettere a posto il tutto.